Acqua, rifiuti ed energie, questo è il tema di un convegno che si è svolto nella serata di ieri a Dominiano Scalo. L'obiettivo definito è la gestione dei servizi in modo separato rispetto al resto della provincia, creare cioè un'entra di gestione unico. Questo è uno dei temi più importanti all'attenzione di tutti quanti gli amministratori locali e non, proprio perché questo tipo di gestione se viene svolta oculatamente ed in modo anche programmatico per il futuro si riesce a gestirla anche con costi accettabili e risultati migliori. Perché poi l'effetto finale sono i costi, naturalmente sia per l'acqua sia per i rifiuti, in questo secondo caso naturalmente si dovrebbero compensare quelli che sono i passivi dei vari consorsi e quindi vi sarà un aumento sconsiderato di quelle che saranno le tariffe. Sicuramente, perché? Perché per fortuna il nostro consorzio non è in cattive acque come lo sono gli altri e soprattutto quelli a gestione cittadina. E naturalmente già l'obiettivo del lato a sud della provincia di Salerno è stato già raggiunto con una delibera regionale che ha consentito la prosecuzione di questa gestione in sede locale, proprio per non spalmare i debiti della città, delle ato più grandi anche sui territori interni già di per sé disagiati. E questo consente anche di mantenere tariffe più accettabili e nello stesso tempo una gestione dei servizi più immediata. Questo lei crede che si possa fare anche con la gestione dei rifiuti perché si va verso quella che è l'ente unico provinciale? Io auspico che questo lo si faccia anche con i rifiuti. Noi stiamo vivendo già una situazione di disagio con le ASL centralizzate perché la nostra era una delle ASL più virtuose, forse non solo della regione Campania ma dell'intero territorio nazionale. Sicuramente questa gestione centralistica ha portato a dei disagi per noi. Naturalmente la stessa cosa vale anche per i rifiuti.